bene 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 abbiamo preso un po' di monetine prendiamo la nostra testa che immagino a questo punto dobbiamo portare giù freccia in giù cadiamo con la testa ok li è dove siamo passati prima era dove era eccolo lì ok va bene è il primo giorno che giochiamo seconda partita quindi vediamo che succede 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 allora abbiamo recuperato le tre teste dovrebbe accendersi questo affare sperando che non sia un mega boss cosa succederà dai che si dovrebbe vediamo un po' ci ho aperto sta cosa con questa campanella sembra che si apra un passaggio esatto e c'è qualcosa che è un quadrifoglio ok ok il quadrifoglio non dovrebbe essere una cosa pericolosa no andiamo a metterci il naso allora veloci 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 va dentro il nostro libro e quindi livello completo 341 monete pagina nascosta e non ho completato la parola lucky porcaccia miseriaccia e la c però non l'abbiamo vista questa c qui eh 341 monete con la forma di zampa che è sta roba 765 chissà che ci serve qualcosa come hai fatto ad arrivare così in fretta non importa accetta la tua sfida minu... minuto come sei va bene se riesci a trovare le pagine prima di me allora combatteremo mi sto già per... ma nel frattempo sto... scivani ecco fuori di bar sì ciao allora 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 è stato intenso è benissimo questo posto dopo un orario di golem forse quel paolo va a scappare tutti perchè non cerchi i mittens e le pagine al quadrifoglio mentre io esploro la zona e vedo cosa c'è in giro come se lui facesse qualcosa per noi siamo sempre a sky castle acquedotto mal di testa mi sembra di dedurre che siano dei portali qui non ci posso fare niente guardo e cerco un attimo perchè essendo che abbiamo appena iniziato a giocare questo l'abbiamo già capito quindi dobbiamo entrare in queste cose qui mal di testa è uno strego da molto potente potete far diventare invisibili gli oggetti va bene va bene va bene vediamo un po' ciao che sei collegato adesso allora allora mal di testa sky castle ma questo l'abbiamo già fatto il nome sky castle allora devo un attimino un secondo datemi un secondo d'orologio se volete lasciare commenti o altro ho aperto il cellulare perchè sto giocando su xbox e attualmente l'applicazione xbox non mi fa vedere sullo schermo mi sono messo qua il cellulare di fianco così se volete scrivere commentate pure invece lascio sempre il link come dicevo prima su come si chiama su youtube per chi volesse seguirci da youtube indifferita ricordatevi ragazzi registratevi su twitch se volete è gratis esattamente come su youtube io però sto livello l'ho già fatto non ho voglia di rifarlo tutto questa cosa in questo gioco qua non mi gusta in modo vabbè ripassiamo di qui vorrei sperare che ho il portale aperto visto che ho già fatto tutta questa parte perchè me la ripropone come se niente fosse vabbè dai questo è un lato negativo eh per me è un gioco nuovo ragazzi mi piace e è carino però prima non mi ha salvato la partita mi è toccato di fare adesso sono passato di qui perchè chiaramente non avevo idea di come si chiamasse sta roba e vedo che me la ripropone tutta che pizza se vabbè dai ti rimetto qua cioè se rientrate nei portali non si può più tornare indietro ragazzi eh quindi non fate la stupidata che ho fatto io adesso vediamo di fare il livello in 3 secondi dai vai fuori dalle scatole perchè tanto abbiamo già visto tutta questa parte qui quindi attenzione ragazzi cosa è importante quando avete finito il primo livello ehm state attenti non entrate in mal di testa perchè se no come vedete ritornate qua da i sacchiotti come sta succedendo a me che di dover rifare il livello senza opportunità è veramente una cavolata assurda se invece avete suggerimenti in merito può darsi anche che ci sia la possibilità di fare diversamente che per me eh è nuovo il gioco quindi sto scoprendo queste parti qui che magari sono sbaglio io eh però mi sembra veramente assurdo di dover rifare il livello perchè qui c'era la capa questa vedete eh allora cioè me le insegna che le ho già prese e allo stesso tempo non mi ripidiamo la testa allora dovete raccogliere le tre teste per chi non ha visto l'inizio appuntatevi siete appena collegati e bisogna portarle giù giù dove che dove era dai tizi ecco erano lì perciò adesso devo rialzarmi in questo caso qua riprendiamo la mia testa di modo non me l'ha rialzata oh ragazzi dai tira su qualcosa devo andare a prendere la lettera per forza ah sì allora mi ha perso pure la testa mamma mia che pazienza che pazienza di fare le cose sei volte inutilmente questa l'abbiamo già messa quella lì l'abbiamo già presa fatta riprendiamoci la nostra testa andiamo a portarla giù sperando che sia la volta buona allora 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 rimasta giù ah no devo passare di qui lo so stupido io oh ho sbagliato io sorry 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 ragazzi qui ho sbagliato io bisogna ammettere quando si sbaglia nei giochi e nella vita è importante imparatelo tutti che non costa un bel niente dire ho sbagliato allora dunque dunque per chi segue il nostro canale come potete trovare sia sul twitch che su youtube la prima puntata dove abbiamo fatto questa parte qui un po' più concreti adesso lo stiamo facendo velocemente perché come avete visto abbiamo scoperto che se non entriamo ce le perdiamo tutte e quindi non stiamo qua ad impazzire con sto cavolata qua ma cerchiamo di andare fuori a fare il secondo livello perché se ritornate dentro per sbaglio come ho fatto io che non mi sono segnato il nome di questo ve lo fa rifare tutto sto fetente mi sa che adesso potremmo però a sto punto approfittarne per trovare la nostra C di Lucky perché eccola qui allora una cosa buona l'abbiamo fatta intanto abbiamo sbloccato l'obiettivo che questa è una cosa invece che poteva può essere utile allora ci stiamo seguendo da prima avete visto questa parte non l'avevo vista adesso avendo avuto la possibilità per spiga di rifare il livello è stato utile andiamo giù di qui che non mi ricordo questa mi sa che non l'abbiamo proprio fatta quindi scopriamo questa parte qua no questa l'abbiamo fatta ho da rifare tutto che pista che pista che pista trovo un difetto questa cosa qua voi cosa ne dite cioè se uno non lo sa non ci arrivi non lo trovi e quindi oh dai che mi ha dato questo molto bene molto bene a questo punto saltiamo qua e andiamo su di qua bene 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 se volete lasciare un commento ragazzi scrivete pure cosa ne pensate di questo gioco per me è nuovo adesso a parte il difetto di dover rifare queste parti qui a me sembra molto molto carino ci sono tanti spunti chiaro da super mare come abbiamo detto prima al crash bandicoat famosissimo titolo che tutti conoscete ci sono le casse come queste da rompere per il momento è abbastanza facile da giocare vi dico quindi il gioco che posso dirvi ha dato tutte le età grandi piccini non è un gioco particolarmente difficile almeno per il momento voi dite stai rifacendo livello sì ma perché non mi sono segnato non avevo minima idea che questo livello si chiama mal di testa si chiama così quindi quando lo fate uscite da questo portale ecco adesso ci arriviamo vedete attenzione a non rimetterci dentro il naso perché ve lo fa rifare l'unico punto positivo è quello che abbiamo preso adesso anche la C quindi abbiamo sta scritta l'acchi benedetta completa perché tra tutte le varie cose che vi propone di fare c'è anche quella di comporre la scritta per avere il bonus come già in tante platform giochi e piattaforme di questo tipo qua se raccogliete tutti i vari gadget avete il piccolo premio allora adesso abbiamo nostro quadrifoglio che metterà nel libro che abbiamo già visto prima quindi niente di nuovo corriamo veloci contro il quadrifoglio manca il tasto per correre non ho ancora scoperto metti via sta a fare andiamo avanti che vediamo il prossimo livello finalmente dai veloce bene adesso abbiamo tutte le monete scritte là che le abbiamo fatte 100% questo è un unico l'unico punto positivo che abbiamo oh allora mal di testa si è fatto tutta sta balla questo è arrivato a 4 allora questa è aperta adesso ho capito allora dunque dunque il livello fatto guardate perché se siete come me alla prima partita questa cosa è utile si è acceso la lanterna sopra e le porte sono tutte aperte vedete con i teletrasporti solo che questo qua ha in più la spunta del fatto sono stato stupido io ho sottovalutato questa piccola particolarità allora quello lì poi l'ho fatto andiamo dentro in acquedotto dai benvenuto nell'acquedotto della sventura piccolo avversario molto molto bene dai vediamo un po' se volete a un certo momento io ho altro ragazzo scrivete pure bam bam dai il gatto è una mano all'acqua ma la minaccia di un bagno non basterà per dirmi di compiere la mia missione se pensi di poter averla meglio su di me in queste buie sale ti sbaglio di grosso io sono il maestro delle invisibilità che bella roba andiamo avanti per arrivare ragazzo che io devo giocare saltiamo su questo gli ho dato io una una codata questo pure ci posso far qualcosa saltiamo 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 questo questo è una prova a tempo e noi facciamo velocemente voilà e abbiamo vinto un omino ne abbiamo nove abbiamo sei nove possibilità di lasciarci le penne da sopra c'è qualcosa la eccolo l'ha preso anche presa anche la gemma andiamo andiamo su questi da curare sentiamogli sulla testa premendo il tasto A ricordo che con il tasto A saltate se premete due volte saltate in alto se premete la X muovete la coda e ammazzate i vostri avversari un attimo solo che mi hanno suonato ragazzi datemi un minuto d'orologio che arrivo ho il postino il tasto A ch Além di ammazzate il tasto A piang 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono dovuto scendere per forza. Allora, a ritirare lì sotto. Qua sotto c'è qualcosa. È molto, molto bene. Proseguiamo. Che cosa ci succede? Posto di controllo. Ok, abbiamo il checkpoint. Diciamo che c'è una cifra. L'ho presa, sì. Ah, abbiamo saltato già due pezzi. Quindi, allora, bisognerà... Allora, ho visto che mi ha dato la C, a differenza... Cioè, prima non avevamo la C e... Questo è così, ho capito. Ah, mi ha dato questo o questo? Ah, ok. Dai, 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 no! Siamo muerti, ragazzi. Ma come faccio a farli tutti questi? Schiacciando due volte. Giustamente. C'è da saltare da una parte e dall'altra. Dai, dai. Preso! Oh là là, per un pelo, eh. Andiamo a prenderci anche la vita qui. Poi c'è qualcos'altro da prendere, eh. Oh, semplicemente... Ci ributta qui. Ok, ok, ok. Mi piacerebbe capire un attimino dove sono finite le altre lettere che non ho visto minimamente dove potevo prendere in un altro posto di controllo. Di sotto abbiamo la K. E mi fa piacere. Bravo, bravo fesso che sono morto. Ma me l'ha spostata la K. È scappato ancora? Ma, allora... Mi vuoi via... B-Bool. Sì, 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 sì. Dove sei con la K, ragazzo? Te ne sei andato... Ancora sotto? Adesso è andato sotto. Allora. Cerchiamo di deciderci, eh. Se vuoi scappare, dillo. Attenzione. Vorrei evitare... Ancora? No, 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 no. Ho mai perso una vita, allora. Giustamente, eh. E quindi dove ci riporta? Vediamo un po' cosa è che abbiamo sto gioco. Allora, ci ha rimesso il checkpoint. Meno male, non mi ha il checkpoint. in funzione. Sta cavolo di K lì sotto. Uno. Voglio prendere più volte? Andiamo subito a capire cosa succede. Due. Eh, sì. Non voglio prendere facce, non mi concentro. Sto facendo troppo un shoot test, eh. Sarà meglio dentroci un po' più di concentrazione. Abbiamo appena detto. Non mi fa tornare su? Doppio salto. La K l'abbiamo presa. Le. Ci manca solo l'L, l'U e l'Y. Siamo indietro. Abbiamo preso il nostro coso. Saltiamo in testa questo, sennò ci fa... ci ammazza. Adesso ci ho visto. Punto di controllo. Bene, bene. Mi piacerebbe sapere dove sono le altre lettere come ho detto prima. Uno, due, tre. Sto saltando come un forse nato. In scioltezza. Andiamo avanti. Ci siamo presi un altro quadrifoglio. Molto bene. Questo è sicuramente utile per il nostro e abbiamo un amico che è chiuso dentro, ragazzi. Come faccio? Devo far fuori il fessacchiotto qua? Non penso. Proviamo il nostro amico che è serrato qua. Come faccio? Devo sfruttare... No, sotto terra non si può andare perché è duro. E allora? là c'è la Y non è in fondo. Come faccio ad andarla in fondo? Andiamo, 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 andiamo. Proviamo a solare qua. Ah, no, no. È di sotto, è di sotto, è di sotto, è di sotto. Quindi calma, 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 calma. R.T. Via. Ci porta di là. Prendiamo la nostra monetona. Ci sono le api. Si complica un pochino la situation. Abbiamo le api che ci sparano. Allora, devo dire che adesso che stiamo giocando da un pochino il gioco non è male. è gradevole, dai. A me piace. Spero anche a voi, mamma mia. Dai, salta dentro, torniamo di là. Oh, c'è questo qua. Così abbiamo preso uno meno. Torniamo a dieci, uomini. Ci abbiamo sempre il nostro amico chiuso dentro, però, ragazzi. E quindi? E allora, là in fondo non ho più niente. Proseguo e vado qua da sotto. Benedetto che è sacchiotto. E andiamo a vedere se c'è qualcosa di qui a sto punto. Che non ho visto, non ho fatto. Un super mega diamante che ci ha dato una valanga di... Vediamo un po'. Devo dedurre che ci sarà qualche passaggio che non ho visto. Dove si deve andare? Questa è una bella domanda, eh. Boh. Where I have to go? Boh. Questa è bella, eh. E quindi? Niente, risaliamo qua, dai. Andiamo su in alto. In alto, in alto non si può andare. Non è un punto di appoggio. Che bello, comunque, come giochino, dai. Ho giocato... A me piacciono... Tra i vari giochi disponibili sul mercato, comunque... I platform, vi devo dire che mi piacciono. In generale, infatti, ho giocato a Super Mario... Già da... I Super Mario, diciamo che li ho quasi tutti, dai. Ho tante console, perché mi conosce o sa, e... Super Mario ce l'ho dalla Nintendo Switch, al NES, al Super NES, tutte le salse. Non ho solo Nintendo 64, ve lo dico bello chiaro. Sicuramente qualcuno store c'era al NAS, non l'ho mai comprato perché non ho visto niente di particolare che mi interessava. E... E... Una delle poche console che mi mancano. Ci sono tornati qui. Come ho giocato molto il Crash Bandicoot. A partire dal PlayStation 1, 2... E via dicendo... Non ho ancora giocato Crash Bandicoot 4, eh. Quello mi manca. Motivo? Eh, ve lo spiego bello chiaro. Ehm... Per me, come tutti i giochi, adesso costa troppo. Aspetto che diventi un pochino vecchio, e... Ho visto che purtroppo sul Game Pass non c'è. No, ci riporta qua. Hmm. Quindi non saprei come andarmene fuori da sta storia. Vai, vai, caro amico, vai, corri, corri. Non c'è il tasto per correre, eh. Ah, c'è il tasto per correre, un fessacchiotto io. E allora, come si fa ad andare avanti da qua? Mannaggia! Oh, abbiamo rotto sto benedetto vaso. C'erano dentro due monete. E poi? Come si fa ad andare a prendere questo? Dai! Allora, là dietro no, perché c'era la nostra lettera e l'abbiamo presa. Ah, c'è da capirla, eh? Vai in cuccia! Scusate, cane, continua a bagliare. Dai, corri! Allora, qua sopra non corre. Un secondo, perché sennò non finisco più qua. Ah, c'è da capirla. C'è da capire come si prosegue questa cosa qua, veramente. Non so, se avete idee, sennò devo cercare qualcosa, se trovo qualcosa online, ragazzi, perché non so dove buttare il naso. Ragazzi, non mi aiutate, io non so dove mettere il naso qua. Abbiamo fatto 27 minuti di live Allora mi porto in fondo Mi riposiziono Mi informo Cerco di capire come proseguire il livello Se volete vederne ancora un pezzettino Più tardi stasera Vediamo di fare un'altra live Su questo giochino nuovo Su questo gioco piattaforme Così vediamo insieme come continuare Allora se vi è piaciuto il gioco Vi chiedo di lasciare un bel like Iscrivetevi al canale YouTube O un bel follow su Twitch Non vi costa niente Forza col ditino che è gratis Dai gratis Clic 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 Forza Ci vediamo più tardi stasera Per una nuova puntata Su New Lucky Tail Così vediamo come proseguire assieme A questo nuovo platform Che è disponibile su Game Pass Ciao a tutti Ci vediamo più tardi Ciao ciao ciao